Sono stata quasi un'ora a dirti il mio pensiero e come la vedevo. Che tu torni di nuovo a dire no, me ne vado, non è normale, capito, questa cosa. E quindi secondo te io ho detto me ne vado perché volevo e pensavo che tu venivi in un'altra... Per la figura, però... Ieri sei stata chiara, hai detto se vai via, il momento in cui passi quel cancello, ti puoi scudere me. Io mi sono assunto le mie responsabilità, ma non da persona non interessata. Le mie responsabilità di quella persona che ti ha messo in cattiva luce e ho detto preferisco perdere. Ok, io preferisco perdere anziché metterla in questa situazione. Ma no, non mi metti in nessuna situazione, cioè perdere di che cosa? Sei stata attaccata che sei venuta la seconda volta. Mi fai capire solo che l'interesse non c'è se te ne vai e scappi. Ma non è facile, è così. Ma è un interesse fiacco, debole. Eh sì, è un interesse fiacco. Se preferisci perdere vuol dire che non è molto importante. No, Gianni, no. Perché se è importante e ti piace, uno non perde. Allora, assicuro. Sopra l'ostacolo, che è un ostacolo piccolo che stai facendo diventare enorme. Tu sei in buona fede. Fondamentalmente mi sarei più preoccupato per l'esterna che abbiamo avuto. Io e Ida, all'interno del parrucchiere, che è dalla ragazza che è venuta qui. Ma neanche se la ricorda. Sinceramente. Grazie. 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 Grazie.